Doppio sogno di Arthur Schnitzler. Questo è un romanzo di poco più di 100 pagine, 120-130 pagine, che è caratterizzato da un emergere dell'inconscio. Ecco il motivo per cui ho deciso di usare questo quadro di Arimatis, la danza, come secondo di questo PowerPoint, insomma di questa presentazione, perché è abbastanza significativo di quello che è ciò che generalmente è nascosto dentro la psiche di ognuno di noi, ma che può emergere in certe situazioni, in certe condizioni. Qui è Arthur Schnitzler, è un autore, uno scrittore, nato nel 1862 a Vienna e morto nel 1931 a Vienna. Quindi Vienna è evidentemente una capitale mitteleuropea straordinaria prima della Prima Guerra Mondiale, in modo particolare. Lui è anche un po' nostalgico, di quella Vienna che precede la Prima Guerra Mondiale ed era assolutamente contro la guerra e insomma la partecipazione dell'Austria alla guerra. Stavo dicendo quindi che vive all'interno di una capitale mitteleuropea nella quale ci sono artisti come Klimt oppure studiosi come Freud che hanno dato una svolta fondamentale, per esempio Freud ha dato una svolta fondamentale alla scienza, in particolar modo alla scienza della psiche, introducendoci alla psicanalisi. Ebbene, è evidente che lui risente di questo ambiente ed è un autore fondamentale dell'innovazione, del cambiamento a livello appunto della narrativa e del teatro. Il sottotenente Gustl, per esempio, è una novella del 1900 con la quale fa già capire insomma quelle idee pacifiste e antimilitariste di cui vi stavo parlando prima. Girotondo è una pièce teatrale, un testo teatrale che a me ha veramente affascinato perché si intitola così perché è una specie di girotondo ecco, torno all'idea della danza di Mattisti di cui vi parlavo prima, però ecco. E girotondo è ancora più esplicita la crisi della coppia borghese che vedremo anche in doppio sogno. Poi c'è la signorina Else, tutta giocata sul monologo interiore insomma tutte cose che ben anticipano doppio sogno che qui c'è scritto del 24 ma forse del 26 se non erro. Comunque, diciamo, è una delle sue ultime opere quindi possiamo definire il dottor sogno ma che è una sorta di meta qui arriva Arthur Schnitzler dopo una, come dire, comunque una lunga serie di importanti testi scritti da lui sia di carattere narrativo sia di carattere teatrale. Ecco, una delle citazioni del libro immagina solo che tipo di esistenza conducono queste donne pieno di bugie, cattiveria, meschinità e pieno di pericolo ecco, questo potrebbe essere definito ciò che il borghese pensa, scrive, dice ad alta voce riguardo ad esempio ad un'orgia sessuale ma nello stesso tempo poi il borghese nascostamente vuole partecipare a riti orgiastici di questo genere. Questo è un po' al centro, vedremo, del resto che stiamo parlando. Per quanto riguarda la vicenda editoriale in realtà prima l'ho definito come una sorta di arrivo della narrativa di Arthur Schnitzler in realtà però sulla tram novelle cioè sulla storia del sogno questo era il titolo originario sul racconto del sogno aveva già iniziato a lavorare Arthur Schnitzler sin dal 1907 poi nel 1925 l'opera apparve in diverse edizioni su Dame, una rivista berlinese e come vi stavo anticipando prima nel 1926 che fu pubblicato sotto forma di libro a pari ecco un altro grande artista della Vienna del tempo Pink che così ha rappresentato le fantasie eh emozionali, sessuali, eccetera che in fondo Arthur Schnitzler ha rappresentato nel testo di cui stiamo parlando il quadro Isce d'acqua dipinto tra il 1904 e il 1907 lo stile narrativo di doppio sogno ecco prevale in monologo interiore che permette di mettere per iscritto istinti repressi sogni e realtà che si confondano tra di loro però ci sono dialoghi all'interno di questo romanzo brevi il romanzo infatti è anche il risultato della lunga frequentazione di Schnitzler con la psicanalisi di Freud bianché Schnitzler abbia seguito un suo percorso addirittura in alcune fasi anticipando Freud e Freud glielo riconosce cioè riconosce a lui come autore spesso non lo dobbiamo dire gli autori di testi narrativi sono stati in grado di cogliere questi meandri della psiche prima ancora che Freud li abbia investigati da un punto di vista nel 1999 Stanley Kubrick il grandissimo regista ha girato un film tratto da questo romanzo Ice Wide Shut ambientandolo però nella New York del suo tempo calcando sugli elementi espliciti soprattutto nei dialoghi fra marito e moglie esempio lampante è l'originale dialogo finale di un film ovviamente bimbi non ve lo dico come termine basta un po' impressa vuol dire vi invito a guardarmi per godervelo perché ho lavorato come molti film di Kubrick ed è anche quasi quasi un testamento spirituale perché il film addirittura è stato diciamo visto nelle sale quando ormai Kubrick perché è stata la sua grande grande opera ecco una delle sequenze di quel film del protagonista come vedete interpretato da Tom Cruise che avvicina parecchie donne spesso donne più giovani di sua moglie insomma con questo testo noi ci immergiamo nell'abisso del mondo istintivo dell'istinto che noi noi borghesi vorremmo in tutti i modi come dire tenere nascosto che volenti o non enti è merda cosa diresti ad esempio se il tuo partner ti dicesse che voleva avere un'avventura di una notte con qualcun altro durante la loro ultima vacanza la vostra ultima vacanza mantenendo la seconda persona così inizia infatti questo romanzo di Arthur Schnitzler con questa confessione da parte di Albertine la moglie di Fridolin cioè guarda che ovviamente abbiamo fatto una vacanza non so io sinceramente ho avuto il desiderio di unirmi con l'altro Fridolin è irritato quando sua moglie Albertine gli confessa qualcosa del genere anche se lui stesso aveva pensieri simili sia l'ipocrisia borghese che viene abbastanza chiaramente messa alla berlina il tentativo della coppia di raccontarsi apertamente fantasie erotiche sui sogni va completamente storto soprattutto poi quando le confessa lei e lui non lo so questo anzi potrebbe portare a rottura da in una sorta di reazione di sfida Fridolin intraprende un'odissea di tentazioni incontra diverse donne partecipa perfino a un'orgia segreta ma poi torna dalla moglie che può ancora vivere i suoi desideri nascosti solo nei sogni maschilismo nel momento che certe fantasie erotiche la donna semplicemente sogna e invece l'uomo ha delle avvenute la novella di schnitzler si legge in un soffio infatti devo dire la verità io quando ho letto per la prima volta questo libro l'ho letto veramente in un soffio tre ore lo si può leggere tranquillamente perché è anche avvincente e ti prende molto non per via non so della suspense della trama eccetera ma perché scava probabilmente anche nella nostra è complessa e profonda però pur essendo così breve tra virgolette è un romanzo che scava nel nostro inno è una storia surreale influenzata dalla teoria dei sogni di Sigmund Freud con i desideri erotici soppressi sull'abisso del mondo istintuare quando fu pubblicato nel 1926 il lavoro suscitò molto scalpore è evidentemente un testo che la scambia la versione cinematografica di Stanley Kubik Eyes Wide Shut ha assicurato che l'originale letterario continui ad essere letto nel nostro mondo apparentemente sessualmente un altro fotogramma tratto da quel film che riguarda appunto quell'odissea di cui parlavamo prima cioè quella notte passata avventurosamente dal nostro Fridolin il protagonista del libro e del film alla ricerca di appagamento sessuale proviamo a interpretare questo testo il romanzo dei sogni traum novelle infatti abbiamo detto il titolo originale originale in tedesco ovviamente di questo libro di Arthur Schnitzler concentra sulle fantasie erotiche entrambi i personaggi principali Fridolin e Albertine hanno queste fantasie e quasi sfidano la tentazione inconsciamente nei sogni Albertine e abbastanza consapevolmente direi nella realtà invece Fridolin la conclusione conciliante mostra che la rispettiva ricerca dell'evasione erotica può però anche portare a una catarsi a una purificazione a una ripresa del rapporto di coppia come abbiamo detto prima nel giro tondo la crisi della coppia non trova soluzione qui invece sembra trovare una riconcilia schnitzler divide la novella nelle aree della veglia e del sogno ma queste non sono categoricamente separate l'uno dall'altro Fridolin vive la notte da sveglio e si chiede se dopo tutto è accaduto che è accaduto in prima persona non fosse in realtà un sogno Albertine sogna ma per lei i sogni sono così reali che ovviamente minacciano il matrimonio il fatto che nei sogni compaiono desideri repressi erotici è una scoperta che condivide con la teoria dei sogni di Sigmund Freud cioè praticamente la teoria secondo la quale nei sogni emergono quelli che sono dei desideri che durante il giorno dalla nostra parte conscia diciamo il nostro superio vengono un po' repressi emergono invece senza più alcun freno nel momento del sogno poiché ci sono delle parti della nostra psiche che in abada ecco dal superio quindi durante il giorno poi possono emergere di notte oppure potremmo anche dire qua facendoci venire in mente altri testi sul doppio doppio sogno altri testi sul dualismo possiamo dire che il borghese vive la sua esistenza normale rispettabile durante il giorno e poi durante la notte invece emerge quello che realmente lui desidera e non sono desideri spesso inconfessabili questo è un altro momento un altro fotogramma tratto da quel film cioè i racconti che si fanno Fridolin e la moglie Albertine a letto nel testo l'erotismo e la morte appaiono quasi sempre uniti come spesso dice Denis de Hojmo nella storia della letteratura occidentale amore e morte si legano l'uno all'altro ovunque Fridolin faccia conoscenze erotiche durante la sua odissea cioè durante quelle ore e ore che ha passato fuori di sono in qualche modo diciamo morbose queste fantasie e anche hanno a che vedere con la morte per esempio prima Marianne la figlia di un consigliere morto che fa una dichiarazione d'amore sul letto di morte del padre a Fridolin che è un dono la seconda la ragazza di strada la prostituta Mizi che viene ricoverata in ospedale per una malattia venere la terza il legame tra eros e morte che giunge all'apice durante l'orgia notturna la quarta anche nel sogno di Albertine i motivi dell'erotismo e della morte si formano ma non voglio anticiparvi tutto ovviamente Schnitzler viola le convenzioni sociali del suo tempo esprimendo i desideri erotici di Albertine e della moglie lasciandoci capire che il matrimonio e la maternità la annoiano e che lei rimpiangeva opportunità mancate e sogni di libertà non realizzati questa cosa fa arrabbiare tantissimo Fridolin ma come abbiamo già visto poplita perché anche lui le fantasie spesso non rimangono solo a livello di fantasie come nel caso di Albertine ecco un altro quadro che mi sembra pertinente con la lettura di oggi il quadro gli amanti di René Magritte dove spesso gli amanti non si vedono negli occhi come accade a una delle donne che incontra Fridolin nel corso delle sue avventure una bella donna che incontra in una villa diciamo alla periferia di Vienna che però è mascherata queste più o meno sono le sequenze in cui possiamo dividere questo romanzo che è diviso in sette capitoli e vorrei sottolineare soprattutto la struttura ciclica in un certo senso abbiamo una conversazione tra Fridolin e Albertine sia all'inizio del romanzo sia alla fine abbiamo per esempio la figlia la bambina insomma che loro hanno sono sposati hanno una bambina sia all'inizio sia alla fine del romanzo e poi abbiamo i viaggi primo e secondo viaggio di Fridolin quindi una struttura un pochettino dove ciò che all'inizio si ripete in forma quasi speculare verso la fine del romanzo queste invece sono le due donne tahitiane di Paul Gauguin che ha rappresentato invece il sesso in una maniera molto naturale spontanea e quindi priva di ogni sentimento di percato per esempio questa è la struttura del testo con una sorta di introduzione i primi tre capitoli che contiene la mutua confezione di infedeltà tra Fridolin e Albertine cioè i due confessano di avere queste fantasie la visita a casa di Fridolin al paziente di ceduto la confezione d'amore di sua figlia Marianne che confessa il suo amore per Fridolin poi la parte centrale che consiste anche nella parte un po' tesa spannung potremmo dire la visita a questo club privato segreto ritorno a casa alle 4 di notte il racconto del sogno di Albertine e poi il giorno seguente la ricerca della salvatrice sconosciuta e infine la conclusione la discussione e la riconciliazione tra un marito questo invece è il sogno di Ecuba di Giulio Romano che probabilmente ha ispirato anche Eduard Manet così incomincia Romano i quattro schiavi mori spingevano remando la sforzosa galera che doveva portare il principe Amjad al palazzo del califo ma il principe avvolto nel suo mantello di porpora se ne stava solo sdraiato in coperta sotto l'azzurro cupo del cielo notturno disseminato di stelle e il suo sguardo ecco questa è una fiaba una storia insomma che sta leggendo la figlia di Fridolin e di Albertine a un certo punto ferma perché insomma perché ha in comitazione ha sonno no? comincia a dormire infatti la piccola aveva letto fin lì ad alta voce ora quasi all'improvviso proprio nel mezzo di una frase di questa favola e si chiusero gli occhi i genitori si guardarono sorridendo Fridolin si chinò su di lei baciò i capelli biondi chiuse il libro e si trovava sulla tavola non ancora apparecchiato questo incipit sembra essere la rappresentazione di una scena di una scena familiare non dico una famiglia da mulino bianco ma senz'altro di una famiglia normale una famiglia in cui due sposi marito e moglie che si vogliono bene e che vogliono bene la loro bambina la mettono a letto mentre lei legge la sua favorezza e quindi una scena quasi idillica se vogliamo ma quando termina questa scena incomincia una discussione tra moglie e marito ormai è tanto la bambina che ha un carattere molto meno tra virgolette edile ecco qui abbiamo una una dei primi fotogrammi possiamo dire del film che probabilmente Stanley Kubrick ha fatto ispirandosi ad un quadro che è il famoso Venere allo specchio di Diego Velasco insomma la nostra Albertine interpretata qui dall'attrice Nicole Kidman si guarda all'ospedale e da qui le confessi il dottor Fridolin di 35 anni sua moglie Albertine siedono comodamente insieme sotto una lampada rossa Fridolin è un uomo molto impegnato lavora in ospedale dalle 8 è un dottore visita i pazienti dalle 11 all'1 viene consultazioni dalle 3 alle 5 del pomeriggio e fa un altro giro di malati la sera certe volte questi giri di malati si prolungano fino a fino a no Albertine è una casalinga che si prende cura della loro figlia di 6 anni dopo che la bimba fu messa a letto la sera dalla tata la coppia parlò del ballo in maschera della sera precedente primo ballo è un ballo che viene descritto solo diciamo con un flashback tramite il racconto dei due protagonisti non altri ma di questo parleremo in seguito Fridolin racconta come subito dopo essere entrato in maschera era il periodo di carnevale sia stato catturato da due uomini mascherati da Domino Rossi che sembravano sapere molto di lui Albertine poi riferisce di essere stata avvicinata da uno sconosciuto con un accento polacco il cui comportamento inizialmente l'ha diriziata e poi l'ha disturbato insomma si raccontano un pochettino che cosa si ricordano un po' quello che era avvenuto la sera prima e incominciano anche un po' a stuzzicarsi no? e insomma a dirsi come stavo spiegando prima le loro fantasie se mi avesse chiamato pensavo di sapere non avrei potuto resistere mi sentivo pronto a tutto pensavo di essere determinato a dare a lui il mio futuro mi sentivo pronta a tutto allo stesso tempo capirai mi eri più caro che mai qui te un errore mi sentivo pronta a tutto ah sì abbiamo detto che a un certo punto di questo ballo del maschera Albertina viene avvicinata da un uomo e lei pensa magari se questo avessi detto le parole di lei cosa avrebbe fatto è pronta a tutto ah pensavo di essere determinato determinata quindi a dare a lui il mio futuro capite eh sono dei momenti in cui magari anche un uomo sconosciuto no improvvisamente fa balenare un sentimento in una donna magari già sposata da come nel caso di Albertina e dice allo stesso tempo capirai mi eri più caro che mi e questo continua a fermarsi vedremo di fedeltà e infedeltà che attraversa tutto il romanzo e siamo appena all'inizio la conversazione si sviluppa ed entrambe riportano esperienze erotiche Albertina ammette che durante la sua ultima vacanza andare in Danimarca ha notato un giovane da cui non poteva distogliere lo sguardo ecco ricordate questo giovane danese perché poi ritornerà nel sogno di Albertina se l'avesse chiamata ecco sì è questo l'uomo ok quasi innamorare Albertina in un attimo non l'altro se l'avesse chiamata lei avrebbe lasciato subito Fredolino sua piccola figlia avrebbe lasciato anche una moglie che sembra non avere questo gran senso di responsabilità quantomeno in questi momenti di fantasia erotica sarebbe andata con lui ma il tipo se ne andò via il freddo quell'occasione era sfumata per sé ma non è detto che nella psiche nell'inconscio di Albertina non sia rimasto il rimpianto per quel possibile rapporto all'inizio Albertina esitò se dovesse essere triste e felice per questo ma alla fine provò sullivo perché il fatto che quell'uomo se n'era andato via voleva dire che comunque continuava a vivere la sua vita senza traumi e questo è anche una delle cose che consono il mondo la parte sua quasi per vendetta ora riferisce di essere andato a fare una passeggiata a Sifridolin ascolta questa storia ed è sconvolto le confessioni della moglie allora quasi per vendetta riferisce di essere andato a fare una passeggiata sulla spiaggia la mattina presto durante quella stessa vacanza al mare in Danimarca ed aver incontrato una ragazza di circa 15 anni svestita in una cabina da bagno sebbene ci fosse una grande attrazione da entrambe le parti e Donin sentiva chiaramente che lei era ancora una bambina a confronto di sua moglie e quindi si voltò e segnando se non l'avesse fatto cosa ne sarebbe stato del suo matrimonio con Albertine cioè la stessa confessione più o meno che aveva fatto lei cioè prospettando la possibilità che il loro matrimonio andasse a rotolo per una storia fugace con un uomo la fa anche lui per questa storia fugace con questa ragazzina dopo queste confezioni sua moglie si alza bacia a Fridolin e suggerisce di raccontarsi sempre immediatamente di tali esperienze con sincerità ma Fridolin pensa segretamente è stato un errore parlare ad Albertine di tenti fantasie erotiche un altro degli aspetti che mi ha colpito molto infatti in questo romanzo stiamo parlando di monologhi interiori il fatto che alla moglie si deve raccontare tutto capite? cioè è una riflessione sia dicevamo sulle nostre fantasie erotiche sia sul fatto che queste fantasie vengano svelate al partner per esempio sta di fatto che Fridolin viene chiamato da un paziente e come abbiamo spiegato prima gli poteva accadere di dover andare dai pazienti di sera o perfino di notte quindi lui che era lì pronto per andare a dormire con sua moglie viene chiamato va in tutta fretta presso questo paziente abbiamo detto che era un consigliere quando arriva entra nella stanza lui è già morto e Marianne la figlia di 26 anni prende il cura del padre da anni e lì è seduta accanto al soggetto affranta dalla morte del padre lei appare molle poco attraente con la pelle già passita e capelli di paglia quando vede il dottore che già conosceva ovviamente il dottore aveva già visitato più e più volte inizia a parlare del più del meno alla fine quasi improvvisamente la scena cambia del tutto lei Marianne cade a te stringe le ginocchia di Fridolin gli conti se il suo amore ti amo tra l'altro qui c'è una una frase bellissima che è trovata nel romano che Hitler scrive sembrava quasi che il padre non fosse morto quindi potesse essere spettatore e testimone della scena improvvisa di amore della figlia per questo dottore Fridolin che sospettava che Marianne fosse innamorata di lui già l'aveva sospettato mantiene la sua composta aiuta ad alzarsi le dà un bacio confortante sulla fronte chiedendosi segretamente appunto la frase di cui vi stavo parlando prima se il morto la stia guardando perché per un attimo ha quella sensazione che non siano loro due da soli i due soli vivi ma che ce ne sia un altro magari un morto ancora in realtà conserva parte della sua vita poco dopo suona il campanello compaiono i parenti e questa scena improvvisa ti tronca e questo è un fotogramma tratto dal film tornato in strada Fridolin non ha voglia di tornare a casa c'è qualcosa che non lo attrae ecco la casa la moglie la famiglia per un attimo non lo attrae a questo punto lui terminata la visita avrebbe dovuto tornare a casa da sua moglie dormire con lei capite e invece no e incomincia la sua odissea così l'abbiamo chiamata cioè incomincia questa storia questa notte avventurosa in giro per Vienna passeggia per i vicoli illuminati dai lampioni a gas un gruppo di studenti gli alemanni viene verso di lui cioè sapete le combriccole di studenti che spesso si davano dei nomi e che facevano anche un po' gli spavaldi in giro per la città soprattutto di notte ora cosa succede che arriva questo gruppo di studenti e lui Fridolin praticamente cerca di scostarsi per farli passare eppure uno di questi studenti lo urca un studente con una benda sugli occhi di questo gruppo di questa confraternita di giovani gli dà una gomitata lo colpisce uno sguardo sul suo viso mostra a Fridolin che il giovane sta per sfidarlo per un attimo Fridolin ha questa intuizione che questo giovane spavando con quella gomitata gli abbia come gettato un guanto di sfida aspettandosi che Fridolin cogliesse questa sfida e quindi lo sfidasse a duello a duello all'arma bianca o con la pistola addirittura prendendo le sue dita gli prudono dell'istinto di reagire con violenza Fridolin considera le conseguenze di uno scopo continua per la sua il borghese sa che un azzardo del genere potrebbe costargli caro lui che è un medico un dottore potrebbe bastare anche semplicemente rovinarsi la mano per rovinare la sua carriera per non parlare poi di essere ferito colpito forte oppure diciamo ferito con delle conseguenze gravi ad esempio una setticemia e insomma alla fine lasciando da parte il suo orgoglio decide di non reagire alla provocazione arriva in un vicolo buio dove una prostituta a 17enne Mizi lo trascina in una casa davvero gentiluomo però Fridolin rifiuta di abusare di lei e ascolta solo le sue parole offrendole comunque lo stesso i compenso i soldi corrispondenti a quelli di un momento d'amore con cui la ragazza è sorpresa non vuole accettare i suoi soldi quando lui le bacia la mano per salutarla lei si sente lusingata tornato nel vicolo Fridolin prende nota della casa per inviare più tardi dolci e vino a quella povera donna a quella donna costretta per guadagnare sicuro come vedete sia nel caso di Marianne sia nel caso di Mizi Fridolin forse ha dei momenti ha degli attimi da per cedere all'istinto ma ancora è in grado di fermarsi un altro fotogramma del film di a questo punto Fridolin entra in un caffè gli vengono dati dei giornali e lì incontra Naktigal un ex compagno di studi polacco che ha interrotto gli studi di medicina e si sta facendo strada relativamente direi come musicista perché poi comunque non è stato accettato nella Vienna bene perché è un pochettino troppo estroso bizzoso Naktigal gli dice che sta aspettando che una carrozza lo porti a una festa privata lui suonerà a un ballo in costume secondo ballo lì sono presenti anche donne nude doveva indossare una venda sugli occhi poteva vedere tutto attraverso uno specchio di fronte a lui e così capisce in tutto e subito che Fridolin è attratto dalle cose che ha detto Naktigal soprattutto dal fatto che lui andrà a suonare in una festa un ballo in costume in maschera dove sono dove erano presenti anche donne nude l'interesse di Fridolin viene risvegliato anche se sembra così pentirsi della richiesta e di Naktigal come faccio a partecipare anch'io a questa orgia privata la curiosità morbosa è irresistibile Naktigal esita è pericoloso partecipare a questa serve anche una parola d'ordine ovviamente un costume Fridolin non si dà per vinto chiede la parola d'ordine a Naktigal e quindi dice beh mi mancano solamente i costume certo siamo a notte fonda quindi i negozi sono chiusi ma lui non si dà per vinto cerca immediatamente un negozio di costume di maschere sveglia il proprietario il signor Gibiser e quindi il proprietario che viene da lui potrà dargli questa questa maschera insomma questo costume in maschera non sono una maschera ma anche tutto quanto il costume necessario per partecipare una festa privata insieme alla parola così lui acquista questo che è un vestito da monaco praticamente una specie di tunica di saio e una maschera da mettersi nella sua vestaglia l'anciano mascheraio mostra a Fridolin diversi costumi che ha lì il suo negozio che ha riaperto per Fridolin all'improvviso proviene un rumore dal buio alla luce compare una ragazza che indossa un costume da Pierrette che è l'equivalente femminile del Pierrot con calze bianche la donna ha appena cenato a un tavolo con due giudici in veste rossa e ora corre verso Fridolin che la afferra all'improvviso è truccato di bianco sembra molto infantile il signor Gibiser vuole consegnare gli strani uomini che hanno seguito la donna alla polizia si scusa con Fridolin per i disturbi Fridolin però dice di non volerli denunciare sceglie rapidamente l'abito di un monoco con una maschera sale in carrozza sulla strada che segue l'auto che poi sarebbe la carrozza di Naktigal e lascia anche quest'altra ragazza che ha incontrato nel corso di queste sue avventure notturne ecco attenzione fino adesso vi ho raccontato delle cose che possono anche essere più che sufficienti per indurre una persona a leggere questo bellissimo libro di Artuscia tuttavia adesso vi racconto un po' il momento di maggiore tensione del romanzo quindi se qualcuno vuole leggere questo romanzo senza perdersi questo momento di grande tensione tensione lasci pure adesso questo contributo di relazione mia e ci ritorni semmai dopo altrimenti però sapendo che ormai mi sto per dire qualcosa di molto siamo infatti al cuore al centro del nostro il ballo in maschio il fiacra quindi questa carrozza che seguiva la carrozza di Nakti per vi ricordate giunge presso una villa in un subborgo di Vienna due servi mascherati aspettano Fridolin al cancello del cortile chiedono la parola d'ordine e lui gliela dice dice Danimarca come gli ha detto Nakti in una sala interamente rivestita di setta nera incontra una ventina di monache e di monaci tutti indossano delle maschere qualcosa di molto simile insomma al suo costello ma Fridolin nota che alcuni di loro lo stanno guardando negli occhi in una riunione segreta in un club privato o addirittura in una setta una bella signora una bella si avvicina a Cauta e gli consiglia quasi lo implora di lasciare quel posto di andarsene subito via altrimenti potrebbe essere pericoloso per lui perché non fa parte di questo circolo ma Fridolin non presta attenzione all'avvertimento quindi preso da questa voglia questo desiderio di realizzare questi sogni erotici vuole rimanere lì cosa dovrebbe avere cosa li potrebbe accadere improvvisamente la stanza vicina è inondata di luce intendo le donne stanno immobili con maschere e veli sulla fronte e sul collo ma per il resto sono completamente nude si sente un urlo alcuni uomini in costumi da cerimonia dei colori vivaci si avvicinano alle donne e iniziano a ballare con loro Fridolin osserva senza avvicinarsi e uno di loro gli chiede perché lui non balla con veli scuri torna la testa la fronte veve alcuni armi di pizzo nero sul viso ma per il resto completamente nude la bella donna che Fridolin aveva conosciuto gli si avvicina un'altra volta e finge di conoscerlo di fronte all'altra lo conosco io quest'uomo e riesce così a farlo andare via a questo punto lei sottovoce gli ripete il suo avvertimento con maggiore impellenza cappa finché ti è possibile Fridolin appunto è stata ma il corpo è nido le chiede di andarsene ma lei dice che non può lasciare a questo punto però accade qualcosa di molto inquietante infatti Fridolin viene preso da alcuni dei signori che sono presenti lì privata che gli chiedono la parola d'ordine e Fridolin ripete da dimarca sì questa è la parola d'ordine dell'entrata per entrare in questo club ma non è quella per partecipare qual è la parola d'ordine per partecipare e Fridolin dice io veramente non la conosco appunto Fridolin viene circondato le porte sono chiuse gli viene chiesto di togliersi la maschera lui volente o non volente deve farlo la mano di uno sconosciuto nel senso sta già raggiungendo la maschera di Fridolin quando a un certo punto interviene nuovamente la bella signora lei è pronta a offrirsi al posto dell'intruso anche se è pienamente consapevole delle conseguenze infatti gli uomini le dicono ma sei sicura di farlo di offrirti al posto suo sai quali sono le conseguenze di lui eppure si offre al posto di Fridolin dopodiché Fridolin viene spinto alla porta da forte in bacia e sbattuto fuori con l'avvertimento di non parlare a nessuno di questo incontro Fridolin viene poi trasportato in città con la stessa carrozza in cui è stato portato Naktin poi prende un altro fiacre torna a casa ormai verso le 4 del mattino o ulteriori diciamo vagabondaggi e si chiede se non sia stato tutto un sonno e questa è la scena una delle scene di questo ballo in maschera che è centrale dicevamo nel romanzo che rappresenta proprio il momento in cui Fridolin si gira perché qualcuno quella bella donna gli offre al posto suo o alle 4 di notte allora ben avanzata direi delle 4 di notte Fridolin raggiunge la sua camera da letto finalmente ritorna dalla monica si spoglia nasconde il costume da monaco nell'armato e riesce anche a non far svegliare infatti lei sta dormendo sembra però che abbia un brutto sogno mette a ridere in un modo talmente sguaiato che Fridolin senza alcun indugio la sveglia e le chiede di raccontargli il sogno e allora lei incomincia a raccontare bisognava di essere nella casa sul watersee cioè su un lago praticamente si tratta di un luogo dove lei e i suoi genitori avevano trascorso l'estate prima del matrimonio sorprendentemente i suoi genitori l'avevano lasciata sola proprio il giorno prima del matrimonio con Fridolin lei ha cercato nell'armadio il suo abito da sporto all'improvviso Fridolin aveva attraversato il lago in una barca lui indossava oro e seta che lei si era improvvisamente vestita come una principessa la nebbia si alzò intorno alle sue caviglie entrambi volarono attraverso la foschia in alto le montagne per atterrare in una radura sotto un meraviglioso cielo stellato e per amarsi e quindi sogna dice Albertine che sta raccontando a Fridolin il suo sogno hanno sognato di avere una notte d'amore con Fridolin prima di sposarsi a un certo punto però i due si accorgono che i loro vestiti sono spariti Albertine arrabbiata perché in colpa a Fridolin di questa colpa di vestiti e anzi lo manda a prenderne di nuovi di vestiti sono tutti e due nudi lui Fridolin scende corre nudo nella città sommersa mentre Albertine cammina avanti e dietro sul prato cantando e senza provare nessun rimorso per aver fatto andare via il suo fidanzato un bel signore passa accanto ad Albertine che tratta di un ufficiale danese ecco questo è il momento una scena insomma di quel film di Kubrick quando lui risveglia lei e si fa raccontare questo sogno è un sogno complicato attraverso il quale però emergono dicevamo questi desideri sessuali repressi dell'amore leggiamo un brano proprio di questo sogno dal testo di Schnitzler poi allungò il giovane corpo snello contenta della sua bellezza ma era facile notare orgogliosa e dolcemente eccitata dal bagliore del mio sguardo eravamo arrivati però all'unità danese l'ufficiale danese si sdraia sul prato con Albertine lì si attardarono uno spazio senza tempo mentre molte coppie apparivano cammino nella zona e intanto Fridolin era lontano a cercare nuovi vestiti per lui Albertine però abbiamo detto non è per nulla notturbata dalla lontananza del marito dal fatto di essere insieme con un altro uomo sdraia insieme con un altro uomo anzi sente rilassata poi vede come un gruppo di persone ha incatenato allegato Fridolin per portarlo ad un'esecuzione capitale imprigionato e condannato a morte anche questa cosa non la turma minimamente anzi ne spogna sempre anzi ora la principessa perché in questo luogo c'era una principessa si sporse da una finestra e chiese a Fridolin sempre il sogno di Albertine se voleva diventare suo amante e sfuggire così alla sua esecuzione era la ragazza che Fridolin aveva visto in una capanna sulla spiaggia in vacanza in Danimarca cioè questo sogno di Albertine ci dimostra come quello che Fridolin aveva confessato ricordate all'inizio del romanzo aveva avuto le sue conseguenze sulla psiche che aveva inserito una parte della confessione di Fridolin in questo sogno Fridolin nel sogno di Albertine rifiuta la proposta di questa principessa che come punizione viene frustato in una prigione sotterranea sta sanguinando copiosamente ma rimane fedele a sua moglie anche dopo una nuova offerta questo è quanto la moglie Albertine ovviamente ora addirittura non si vede più la principessa però si vede una croce posta su un prato fiorito per lui per crocifiggere Fridolin che sia questo sogno anche la rappresentazione di un desiderio represso non c'è di far fuori il proprio marito tutto rimane ovviamente come dire inespresso non esplicitato però intanto lei sta sognando che lui sta per essere giudiziato no? senza alcuna guardia Fridolin salì sul sentiero di montagna e sorrise però da Albertine poi improvvisamente questa esecuzione non avviene entrambi quindi iniziano a galleggiare si sarebbero allontanati uno dall'altro affinché Fridolin potesse almeno sentirla ridere mentre veniva inchiodato sulla croce lei rise stridula ah ecco sì scusate no volevo dire che Fridolin si avvicina alla sua esecuzione e lei si mette a ridere mentre lui sta per essere giustiziato e da questo punto quando lei si mette a ridere nel sogno che si era messa a ridere anche nella realtà ed era arrivato Fridolin e l'aveva svegliata insomma è chiaro che Fridolin ascolta questo sogno che sinceramente Albertine racconta e riesce a raccontare perché è possibile raccontare i propri sogni appena svegli no? però lui è infastizzato il racconto anzi pensa di odiare Albertine più di quanto l'abbia mai amato e a questo punto arriviamo verso la parte finale diciamo del romanzo cioè alle 4 finalmente i due iniziano a dormire o quantomeno lui inizia a dormire perché lei come abbiamo detto era stata svegliata nel di un sogno e alle 7 è che lo sveglia che sveglia Fridolin mentre la moglie continua a dormire e allora Fridolin si si dà questo questo scopo la giornata quello di tornare sui suoi passi e di vedere se riesce a capire come è andata a finire quella vicenda famosa abbiamo visto della della festa notturna a cui aveva partito per prima cosa va alla ricerca di Naktigal questo suo amico polacco che faceva il pianista che si era messo a suonare durante questa festa notturna riesce a trovare il posto dove lui vive a una squallida pensione ma il portiere di quella pensione gli dice che Naktigal era apparso la mattina presto accompagnato da due signori Naktigal è giunto lì è tornato nella sua pensione alle 5 accompagnato da due signori due di quei famosi partecipanti all'orgia nattura aveva però subito fatto le varigie come se quei signori li avessero ingiunto di andarsene infatti lui Naktigal aveva fatto le varigie ed era andato alla stazione però non c'era andato di buon grado si capiva subito che era costretto praticamente quei signori di quella festa privata volevano evidentemente eliminare tutte le tracce di questa festa fare in modo ad esempio proprio che Fidolin non potesse ritrovare il problema allora lui cioè Naktigal aveva cercato di lasciare una lettera al portiere di quella pensione ma quei due signori gliel'avevano impedito a questo punto mi insegnava via la pensione la prima cosa che aveva cercato di fare ritrovare il suo amico polacco non gli era riuscito allora va a restituire l'abito da Monaco tenete ben in conto questo il capullo di Monaco al costumista cioè al mascheraio a Guy Biser lì uno dei signori arroganti ricordate quei giudici vestiti di rosso che Fridolin aveva visto la sera prima esce da una porta a questo punto lui si aspetterebbe come era successo durante la notte di trovare un Guy Biser scontroso con questo signore in rosso risentito e invece vede che Guy Biser reagisce a diversare e allora si rende conto che le cose sembrano essere molto diverse rispetto a quanto era accaduto nella notte quando ad esempio Guy Biser aveva cercato di proteggere la sua figlia che era inseguita vi ricordate? era di Guy Biser quella che era inseguita da questo come pare invece qui il rapporto fra uno di questi uomini in rosso e la figlia è completamente diverso per niente così ostile fra i due finita anche questa anche stavolta ha una sua seconda delusione se vogliamo Dolin si reca alla clinica da lì le sue istruzioni cioè ha tutti i suoi suoi posti infermieri eccetera poi seguito da un'ispirazione improvvisa prende una macchina in periferia per cercare la casa la villa in cui ha assistito al malvagio ballo in maschera quando la trova un servitore le porghi un foglietto questo è il secondo avvertimento non cercare un'altra volta di sapere di conoscere di più su quello che hai visto non fare in modo che ci siano ulteriori avvertimenti una specie di minaccia capite? Fridolin torna in città passa accanto a Marianne torna quindi ecco come dicevamo il carattere se vogliamo circolare di questo romanzo ritorna da Marianne cioè da quella la figlia di quel consigliere che lui aveva incontrato proprio al capezzano letto di morte le chiede come sta per un attimo carezza l'idea di tradire Albertine con Marianne tuttavia proprio l'atteggiamento di lei di Marianne lo indispone lui parte e se ne va via velocemente per strada passa davanti alla casa di Mizi ricordate quella giovane prostituta povera prostituta compra velocemente qualche dolce come vi ricordate aveva pensato di fare prima purtroppo però una volta che ha comprato queste cose le voleva portare a Mizi viene a sapere che Mizi è ricoverata in ospedale per una malattia contratta durante un rapporto siccome non ha comunque voglia di tornare a casa d'Albertine cena in una locanda e legge sul giornale che la baronessa tal dei tagli si è avvelenata in un albergo a un sostituto non è che per caso questa baronessa è forse la bella donna del ballo in maschera quella che ha cercato in tutti i modi di farmi andare via da quel luogo di perdizione e poi si è sacrificata al posto su e lui che ancora non aveva non sapeva non poteva sapere in cosa consisteva qual era la punizione cui lei si era sottoposta al posto su quella di andare con tutti gli uomini che c'erano là oppure addirittura quella di essere dopo aver individuato l'hotel lui Fridolin apprende che la signora è stata portata lì da due accompagnatori intorno alle 4 del mattino e tutto come dire combacia con quella che è la sua storia è presumibile e che gli accompagnatori siano appunto altri due di quei signori che non avevano quella festa in mezzogiorno successivo lei la baronessa è stata trovata senza vita che sia stata partecipata all'ordine quando Fridolin cerca la signora da un collega da un altro dottore lì all'obitorio non riesce ad identificarla perché non ha mai visto il suo volto lui ha visto tutto di lei tranne il volto perché il volto vi ricordate era coperto confuso torna a casa e trova la maschera che indossava la sera prima sul cuscino accanto ad Albertine anche questa scena è molto significativa perché lui è vero era stato lesto e abile a nascondere i suoi costume da monaco però si era dimenticata una mascherina è così evidente noi da lettori possiamo intuire non è che la moglie Albertine ha capito ha capito che insomma lui è andato solo e semplicemente da un suo paziente malato di notte che stava per morire perché altrimenti non si potrebbe spiegare la presenza di una mascherina cosa ci va a fare un dottore di notte da un paziente che sta mortando con una maschera diciamo una carnevale lui racconta a lei con rimorso a questo punto quello che è successo una notte precedente Albertine conclude che si sono solo svegliati entrambi da un sonno e come al solito la mattina dopo inizia alle sette una nuova giornata la bambina che ride nel loro tram tram questo è il fotogramma della maschera che compare sul cuscino quando ritorna a casa Frido Lino e quindi intuisce che la moglie è fuori capitano e racconta le racconta scusate la sua no ma la cosa più bella e più importante è come termina il romanzo cosa dobbiamo fare Albertine lei sorrise e dopo una breve esitazione risponde noi dobbiamo ringraziare il destino credo di essere usciti in denni da tutte le avventure da quelle reali da quelle della realtà come tu sei uscito in denni da questa avventura piuttosto pericolosa di questa festa in maschera e da quelle sognate come le avventure che ha avuto solo in sogno lei a me stupisce questo finale di questo romanzo perché assomiglia un po' al finale dei promessi sposi c'è però una differenza sostanziale nei promessi sposi questo ringraziare il destino siamo usciti in denni da tutte le avventure lo dice sempre lei a lui cioè Lucia a Renzo ma con una prospettiva che è completamente prospettiva ideologica se vogliamo è completamente diversa da quella di schnitzler cioè con schnitzler abbiamo sempre comunque una profonda crisi di quello che è l'istituto matrimoniale è di fatto malgrado tutte le consolazioni che possiamo vedere in questo finale del romanzo nel suo fondo insomma la crisi rimane quando uno non è la psico cosa che non avviene invece a nessuno nella storia famosa ringraziare il destino credo di essere usciti in denni da tutte le avventure da quelle reali e da quelle sognate sei proprio sicura domandò Frigolin sei sicura come intuisco che la realtà di una notte anzi persino quella di un'intera vita umana non rappresenta la sua più intima verità si intuisce che la verità al fondo spesso è nascosta e nessun sogno aggiunse lui con un lieve sospiro è soltanto un sogno come vedete in questo finale del romanzo che come vi ho già detto è profondamente mutato nel film nel senso che nel film avviene in un esterno in un ambiente esterno in un dialogo che viene insomma a vedete qua ecco se il fotografico a a Vienna insomma è ben diverso rispetto al romanzo perché nel romanzo il dialogo finale avviene nell'intimo della loro casa è ben diverso anche il tempo che si dicono i due protagonisti alla fine del film rispetto rispetto quanto avviene la fine del romanzo non ve lo anticipo ma leggiamo le ultime parole di questo romanzo lei gli prese la testa fra le mani e la adagiò affettuosamente sul proprio ora siamo svegli sono finiti i sogni questa è la realtà una realtà che ci fa capire che è superato questo momento c'è il momento dell'istinto del sogno del subconscio grazie meno apparentemente a voce a parole per sempre resteremo a lungo svegli dice lei per sempre avrebbe voluto correggerla a fridolino ma prima che potesse pronunciare quelle parole lei gli posò un dito sulle labbra e non morò con queste parole termina il romanzo doppio sogno di Arthur ancora una volta lasciando maggiormente aperto ecco diciamo così l'interpretazione su questo romanzo perché nulla che questa ritrovata sintonia fra coni sia per sempre grazie grazie